Oggi inauguriamo il Campidoglio PinkRoma.it, che è il primo One Magazine dedicato alle donne della capitale. Un progetto che è nato per fare rete, con le donne che vivono in una metropoli caotica, che magari non riescono mai a conoscere, a sapere cosa c'è in città. Ecco, sul nostro One Magazine potranno conoscere dall'ultima borsa griffata uscita nella moda all'ultimo servizio in termini di servizi sociali, salute, sanità, che esiste sul territorio. Di fatto ci sarà una sezione dedicata proprio al territorio romano con una pagina per municipio. E la donna che vive o lavora in una zona della capitale potrà conoscere esattamente quello che avviene sul suo territorio.